Ecco, diciamo che prima si risolve il come si diventa insegnanti preparati, e non solo per i contenuti, guarda che non sto parlando di contenuti, io do per scontato che una persona che vada a insegnare filosofia conosca la filosofia, non al 100%, ci mancherebbe, dipende dal tipo di alunni o di indirizzo nel quale dovrà insegnare, ma i contenuti devi conoscerli. Ma una formazione sulla didattica, che è una disciplina che non si insegna, si insegna pochissimo, o in realtà, insomma, io dico è una didattica esperienziale, faccio così perché ho visto così, che funziona, ci mancherebbe, se però è collocata in un momento e non in un divenire, insegnare. Guarda, a questo punto però mi verrebbe da farti addirittura una domanda ancora più spinosa, dato che comunque riesci a divincolarti bene un po', rimanendo nelle metafore marine, un po' come un'anguilla, no? La domanda mia è questa, ma secondo te il sistema di reclutamento attuale degli insegnanti, dato che tra un po' ci sarà anche un concorso, dove i test che verranno fatti saranno per lo più costruiti sui contenuti, ovvero lo studio di tutta la geografia, tutto l'italiano, tutto il latino, tutta la matematica, eccetera, e una valutazione su quello. Non rischia di essere, di portare in classe una futura generazione di docenti che di fatto vivono sull'aneddoto o sul contenuto, ma senza stare magari in classe. Mia moglie mi raccontava di una sua collega, per esempio, che in classe aveva gli attacchi di panico, no? E lei era una docente statale, e la vera domanda è, ma scusatemi, non avete provato a far prima il modo di vedere che c'era questa necessità, questo problema, eccetera? Poi parliamo sempre di cose molto personali e molto delicate, per cui te lo cito proprio come esempio e me lo dimentico subito dopo. Però questo sistema per cui noi siamo valutati sui contenuti, non rischia di essere un po' a cascata una cosa che noi riflettiamo sugli studenti? Cioè tu vali per il contenuto che riesci a propormi nel momento in cui io te lo chiedo? E non rischia questo di non generare uomini, ma generare esperti? Certo. Daniele, hai fatto una domanda che contiene già parte della risposta, che sono d'accordo, e anzi aggiungo, rincarro, gioco la briscola, come si dice, della bassa, che è un sistema di questo tipo, non delegitizza i sistemi accademici, cioè le strutture accademiche, perché io devo dimostrare di essere capace di maneggiare Leopardi, Schopenhauer o gli integrali quando ho un voto di laurea che teoricamente dovrebbe indicare il mio livello di preparazione. Allora perché la selezione non va fatta su altro? Fermo pensando che i contenuti sono assodati, sono quelli che io Leopardi lo conosco, andiamo a misurare in modo molto più diretto e pratico come io riesco a trasmetterti Leopardi, anzi a voler essere ancora un pochino più pignoli, come ti insegno Leopardi alle elementari, sempre che si debba fare, alle medie, sempre che si debba fare, alle superiori, è un tipo di orientamento scolastico diverso, insegnare Leopardi in un istituto professionale è immensamente, non complicato, diverso, ma diverso, sì, è tutta un'altra cosa rispetto magari a un liceo classico, quindi questo è. In più, dicevamo un po' del fuori onda e lo ribadisco, che forse a un insegnante oggi come oggi una buona preparazione, dei contenuti saldi su quella che è una pedagogia, non la pedagogia, i sistemi pedagogici, ma una pedagogia pratica di tenuta e gestione del gruppo classe e alcuni elementi di psicologia per capire le persone che stanno davanti, anche per crearsi una etica del lavoro, una morale del lavoro, secondo me, della professione naturalmente, secondo me sarebbero molto più interessanti che fare una batteria di domande in cui ti chiedono chi ha scritto la minta, perché l'ha scritta e quando. Assolutamente, condivido tutto. Senti, ti faccio un'altra domanda, giusto perché mi sta appassionando questa intervista, ma ok formazione digitale, ma quando noi entriamo in aula e parliamo con degli studenti che hanno già in mente che cosa significa digitale, ma magari non hanno la consapevolezza di chi ha 30, 40, 50 anni, per cui ha maturato anche un sapere del mondo dove capisce o almeno annusa i pericoli se ci sono dietro l'angolo, come si fa a educare a un digitale consapevole una generazione che da un giorno all'altra si è trovata davanti dei cellulari e che li sa usare meglio dei docenti stessi? Vedi che Daniele, quando si parla di digitale c'è difficoltà, è un problema semantico, io credo che davvero sia un problema semantico, perché tu hai detto come si fa a lavorare col digitale, poi hai detto come si fa a educare al digitale consapevole, allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza terminologica, allora il digitale è un modo con il quale viene passata e strutturata l'informazione, il digitale vuol dire proprio i numerini, l'informazione viene trasmessa, comunicata attraverso un numero. Ora il numero è quanto più difficile da interpretare, è quello, è 0-1, ora il problema è come mai dobbiamo fare educazione al digitale? Gli alunni conoscono già cos'è il digitale, è come dire, entro in classe e dico ragazzi, l'elettricità esiste, c'è già, non c'è bisogno di spiegarla perché voi sapete accendere la luce. Vedi che ci si avvolge alla ricerca di un senso, il problema è capire bene, se il digitale è veramente uno strumento, è davvero un qualcosa che deve, non bisogna educare al digitale, bisogna usarlo cercando di integrarlo con altri strumenti conoscitivi, o strumenti che mediano i contenuti, la lavagna d'ardesia, la lim, il digitale è un altro modo. Dall'altro, e naturalmente l'hai citato con Contezza, è come lo usiamo il digitale, che è un altro problema, perché spesso, ormai è morta, io sono abbastanza contento di questo, l'espressione nativi digitali, ormai la usano dopo il grande boom, non la usa quasi nessuno, perché ci siamo accorti che nativi digitali non vuole niente, è un po' come dire che noi siamo nati nell'era dell'elettricità o del telefono portatile, non vuol dire nulla, vuol dire che a volte invece si arriva col pregiudizio dicendo ma gli alunni sanno già, è interessante perché tutte le, non tanto le ricerche, ma tutti gli esempi pratici di persone, di insegnanti che hanno portato il digitale in classe, sono accorti che nel momento in cui il digitale arriva, si fa lezione con i video, si fa lezione con i clicker, si fa lezione con modi interessanti di passaggio dei contenuti, l'entusiasmo degli alunni sale, ma nel momento in cui si fa veramente didattica, cioè si fa veramente la battaglia di Waterloo, si fa veramente un integrale, si fa veramente qualcosa con il digitale e l'interesse inizia a scemare, perché gli alunni sono nati digitali per certi versi, ma c'è una refrattarietà, una difficoltà ad altre cose, quindi dal punto di vista del digitale io sono convinto che sicuramente bisogna pensare a usarlo nel modo corretto quando serve e dal punto di vista invece dell'uso è tutto un altro problema legato a problemi anche di natura sociale, di utilizzo un po' inconsapevole di strumenti che ancora non si sanno usare e per il quale si apre un altro campo di discussione che è la responsabilità e la competenza digitale, quindi sono due argomenti secondo me ben distinti. No, ma infatti poi secondo me una cosa interessante sarebbe veramente riuscire a raccontare e a capire tutta la ricchezza che sta dietro al digitale e con digitale intendo anche, giusto per tornare a quello che abbiamo detto all'inizio, la gamification, no? Io mi sono molto appassionato di strumenti come Minecraft Education che ti permettono di creare e di costruire degli ambienti su Minecraft dentro cui spiegare e raccontare cose, no? Lì riprendi già i ragazzi, fai vedere delle cose che li appassionano, cioè utilizzi i loro linguaggi e soprattutto sei tu che impari un linguaggio nuovo. Per cui veramente io vedo nella didattica digitale la possibilità di ricostruire attraverso dei linguaggi odierni, no? Non siamo più anacronistici, siamo noi nella realtà che raccontiamo la realtà e quello che loro devono, come dire, che possono imparare e possono sapere attraverso un altro linguaggio. Per cui io condivido quello che dici, anzi è bello che sia venuto fuori da un docente che comunque ha esperienza, perché io mi ritrovo nella condizione di essere uno che parla ma che in aula c'è stato poche volte, no? E per cui la vive in maniera un po' diversa. Io mi ricordo quando andavo a scuola io, io per esempio avevo, come dire, ero allergico al gesso per cui mi mettevano in fondo all'aula, no? Quindi facevo casino, eccetera. Adesso sto problema non mi si pone più perché non ho più, per esempio, un'aula classica, come dire, lezione d'aula in cui c'è la cattedra davanti e tutti i banchi dietro, ma ho dei banchi sparsi per l'aula e io devo camminare in mezzo, ma non ho neanche una cattedra, no? E va benissimo così. Forse è meglio non avere la cattedra perché ti fa vedere e gestire lo spazio in modo diverso e ho, vada, perché c'è questa emergenza e quindi sono stato costretto a ritornare nel bente della balena, ma io sono anni che ho alunni che vanno nei corridoi, ma perché vanno nei corridoi? Perché a volte hanno bisogno di lavorare a coppie o in gruppo, a dito da solo e hanno bisogno di spazio. L'aula a volte è uno spazio che è limitante. Non voglio citare cose strane, però insomma si fa filosofia passeggiando e perché non si può fare anche lezioni in spazi diversi. Cioè davvero ci sarebbe tante cose da dire. Sì, veramente. Però in realtà è un po' anche l'obiettivo del podcast. Noi dopo questi 20-25 minuti di intervista non abbiamo mai intenzione di dare delle risposte quanto di aprire più domande rispetto a quelle che abbiamo fatto all'inizio. Per cui Luca, io ti ringrazio perché in realtà sei stato proprio questo, cioè la possibilità di avere una persona che, esperta di quello che dice, facesse anche un po' da eco e ampliasse le vedute di noi ascoltatori. Per cui grazie Luca di aver partecipato in maniera così attiva e coinvolta al progetto di Down in the Whale. Grazie a te, è stato un piacere poter rispondere a tutte le domande e anzi raccogliere spunti e provocazioni per lanciarne altri. Sono divertenti. Guarda, quando poi metteremo un deumidificatore nella balena, ti rinvitiamo così poi ci racconti anche come sono andati magari questi primi mesi di scuola post-Covid. Fa un po' ridere, durante il Covid. Assolutamente. Ok, grazie mille Luca di essere stato con noi. Io vi ringrazio di aver ascoltato Down in the Whale fino a questo momento. Io sono Daniele Ciacci. Vi ricordo che se volete conoscere qualcosa in più di me, andate su Instagram, trovate tutto, oppure sul mio sito danieleciacci.com. Io vi saluto e, come ogni volta, vi ricordo, come dice Elliot, che the end is where we start from. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.